le stelle di azus benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di azus l'oroscopo di lunedì 7 dicembre ariete sono giorni questi in cui potete gettare le basi per il prossimo futuro almeno in ambito professionale prenderete accordi per voi molto vantaggiosi toro si apre una settimana che vedrà la luna diventare vostra alleata con venere sempre ostile questo significa che la vostra situazione personale professionale sentimentale sta per cambiare gemelli non siete di buon umore vi dimostrate molto permalosi nei confronti dei colleghi di lavoro e avrete sempre qualcosa da rimproverare anche al vostro partner cancro sul lavoro la giornata si presenta produttiva avete una mente sveglia e siete in grado di svolgere qualsiasi mansione in amore sarete romantici leone la luna mica vi regala una giornata da incorniciare con sole marte mercurio in posizione favorevole potete cominciare a prendervi delle rivincite vergine luna molto positiva la vita affettiva in gran fermento e vi sentite al settimo cielo sul lavoro la fortuna sarà tutta dalla vostra parte soldi in arrivo bilancia non fidatevi delle apparenze quando si tratta di concludere un affare importante in questo periodo non potete essere superficiali anche se la fortuna vi aiuta scorpione dovete ricontrollare alcuni conti e le scadenze più importanti perché qualcosa potrebbe sfuggirvi non esitate a saldare un debito immediatamente sagittario quando avete la luna di traverso cominciate a lamentarvi di tutto e di tutti facendo terra bruciata intorno a voi chi vi vuole veramente bene saprà comprendervi capricorno in amore può esserci un po di confusione perché non riuscite a capire i vostri sentimenti fino in fondo forse avete messo troppa carne al fuoco acquario sarete un po ansiosi a causa della luna che non vi fa sentire a posto fisicamente non fatevi prendere dalla smania di concludere e staccate la spina appena potete pesci sotto questa luna rischiate di diventare insopportabili a causa della vostra pignoleria avrete la tendenza a spaccare il capello in quattro sul lavoro e in famiglia e con l'oroscopo di oggi è tutto le stelle di azus vi augurano buona fortuna e vi invitano su facebook alla pagina oroscopo di azus